Con il dottor Iuri Tassinari volevamo parlare di Mami Makeover. Dottore ci spieghi un attimo visto insomma la forte richiesta intorno a questa materia. È una richiesta appunto in forte espansione perché sarebbero praticamente due interventi in uno e è una parola di origine anglosassone dove sta a indicare un recupero di due aree mammaria e addominale appunto perché in seguito alla gravidanza una donna ha due inestetismi spesso non sempre da andare a cercare di sistemare. Quello in area addominale e quindi una cuta ridondante e a volte anche una diastasi dei muscoli retti quindi un allontanamento se i muscoli retti sono così si allontanano e non sempre. Quindi occorre delle indagini ecografiche per operatori per andare a individuare se c'è questo tipo di problema o anche altri come ernie, ernie paropenicali o altro. E altre problematiche a carico della mamma sono in area mammaria. Spesso non sempre c'è una discesa della ghiandola mammaria e uno svuotamento specie del polo superiore e quindi le donne spesso cercano di eseguire due interventi in uno. Vuoi per motivi economici ma soprattutto di tempi per stare assente dal lavoro o per altri motivi si cerca di andare a concentrare quelli che sono gli interventi e quindi di farne due in uno. E dottore si sente sempre più parlare di mastopessi ma quando esattamente è indicata? Allora la mastopessi come dice la parola stessa è un'elevazione della ghiandola mammaria. Quindi quando c'è una discesa della specie del complesso arello a capezzolo allora questo per alcuni canoni estetici chiaramente bisognerebbe riportarlo su. Quindi spesso nei forti dimagrimenti in seguito alla gravidanza o anche insomma perché una mammella è abbastanza grande, pesante e quindi per la forza di gravità può scendere, l'intervento che si può eseguire è di mastopessi. Si può eseguire in regime di day surgery o anche di one day surgery. Tutto dipende dalle comorbidità della paziente. Va bene, ringraziamo dottore come sempre per la gentile collaborazione. Grazie.